Il logo di questa categoria G5 passa la moto inizio corso, la natura è altissima, il gruppo si è ricompattato, sarà volata a finale, il corridore della Postumia Dino Liviero in testa al gruppo, vuole prendere la curva in prima posizione, vediamo in terza posizione un corridore della Feralpi, però il corridore della Postumia allarga la curva, curva eseguita perfettamente, entra in curva, prova l'attacco subito, il corridore della Postumia con una ruota, uno spritto lavallata, ma attenzione il corridore della Feralpi, prende la testa della corsa, prende la testa della corsa il corridore della Feralpi, vediamo adesso, non è, attenzione aspetta ho sbagliato, non è il corridore della Feralpi credo, vediamo, no è Feralpi, attenzione, attenzione, testa a testa, testa a testa, rimonta sulla destra, vince Davide, Brasolin, Cartura, Nalin, è ancora Veneto, 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 ancora Veneto, ecco l'inquadrato del numero 110 della SC, Cartura, Nalin, applausi e complimenti da parte del corridore della Postumia che ha tentato il tutto per tutto nell'ultima curva, ma è stato sopperato poi dal corridore della Cartura, Nalin, Marco. Ciao, ciao, allora ho visto che, tieni, tieni qua il microfono vicino, ho visto che durante la corsa sei stato sempre molto attivo sulla salita, sempre davanti, poi è il terzo posto che ti soddisfa? Sì, allora al primo giro sono caduto, proprio alla prima curva, dopo vabbè sono stato sempre a ruota e all'ultimo giro ho rischiato un'altra caduta perché ci siamo toccati, ma così il ciclismo. E si è soddisfatto di questo terzo posto? Sì, sì, soddisfattissimo. La dedica? La dedica la dedico alla mia famiglia, al mio allenatore, a Viviana che ha fatto i panini. Erano buoni? Sì, e al compagno di un mio, c'è il papà di un mio compagno di squadra che mi ha impressato i guanti. Bravissimo, grazie mille e alla prossima, adesso partiamo col secondo classificato, Battistelli, Filippo, vediamo. Allora Filippo, com'è andato? Bene, bene, dai secondo. L'avevo scambiato per un altro, invece poi adesso, allora raccontami un po' la volata. Sono uscito terzo all'inizio del circuito e dopo mi sono spaventato sulla curva e ho tenuto fino a 10-15 metri prima dell'arrivo, però dopo mi ha sorpassato perché non ce la facevo più. Ho visto che il ragazzo della Postumia ha fatto la curva fortissimo per cercare di staccare tutti, poi dopo comunque ha fatto quarto. Com'è fare la volata su questo tipo di tracciato, sul tartano della pista? Ti rallenta un po', però comunque è quasi uguale alla strada normale, al catrame. Quante vittorie hai fatto quest'anno? 14-13. Dai, un secondo posto. Va bene. Va bene, dedica per questo secondo posto? Alla mia famiglia e ai miei compagni di squadra. Grazie mille. Abbiamo il vincitore, Rasolin Davide. Ciao Davide. Ciao. Hai fatto una volata testa a testa. Pensavi di vincere? Sì, lui aveva fatto la volata troppo in anticipo, quindi ho pensato di stargli a ruota e poi negli ultimi metri superarlo con le forze che avevo lasciato. Poi nel pezzo prima della salita Federico, quello del postumia, il ragazzo del postumia, ha tirato fino a dentro. Ha fatto la curva velocissimo. Sì, ha fatto la curva velocissimo. Poi il secondo ragazzo, se non mi ricordo il nome, ha scattato, quindi mi sono riuscito a mettere a ruota. E poi ho fatto testa a testa con lui e sono riuscito a batterlo. Vittoria numero? Oggi conquista 14. Avevi già vinto qua, né? Sì, l'anno scorso. Ti dedica per la vittoria? Allora, alla mia famiglia, ai nonni, gli zii, la squadra, gli allenatori Andrea e Thomas, al mio padrino Alessandro e al mio migliore amico Nicolò. Va bene, ti ringrazio, è stato un piacere, complimenti per la vittoria.